Grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i attività che hanno avuto varie attivazioni, quindi sono più o più o più cosa, perché l'obiettivo vale dare il supporto bambini, ragazzi, appassionamento, lettura, informazioni, programma, delle carini. Quindi, un profetto, quinto, un altro, 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 da altre attivazioni e viste diventa molto semplice la sua piazza, fa una molto sensibile attività per più forti, la più grande progetto, storici, saie, applicazioni, vendere, e, quindi, la storia di intervalli, voler, compagni, turcassi, come radioporto, ressoni, ente, consigliore della Italia, alcuni, diventa via programma, e come funziona statica di tendenza su programma che spettano, come partecipi bambini, più famiglie, bambini, furti, denti, per stare, disciplina anche, sempre, famiglie. Come funziona come fare lezioni storie, più laboratori di tendenza, più materiali di tattico, serve obiettivi, dare informazioni, sensibilità, bambini, famiglie, progettori, serve inclusione sociale, obiettivi forti, credere molto amici. Quindi nel momento Covid, pandemia, dovrebbe andare a dendere la tendenza, per dire buona parte il programma di informazioni, guarda il sito creato per dare tutti i possibilità di sudare. Chi. Buono. Buono.. Perchè, perchè? Perchè, perchè? Perchè, perchè?